20 settembre 2014 siamo al termine della seconda giornata del congresso dell'Associazione Luca Coscioni in compagnia di Filomena Gallo che è la segretaria dell'Associazione. La giornata ha avuto un certo sussulto da quando è intervenuto Gianfranco Spadaccia che è un po' su questa cosa che si trascina anche con alcuni carteggi pre-congressuali, polemiche che ci sono state da parte del tesoriere del Partito Radicale Trasnazionale Maurizio Turco e della Presidente onoraria Maria Antonietta Farina Coscioni che poi riguardano un pochino la gestione politica ma anche la sembianza che ha preso l'Associazione Luca Coscioni. Ci sono state alcune critiche, Maria Antonietta è intervenuta dicendo qualcosa, io volevo sentire, volevamo sentire su LibriTV la segretaria attuale cosa ne pensavo. Io ribadisco tutto ciò che ho detto nella mia relazione introduttiva di questo congresso. Io sono partita dai prossimi obiettivi, da una sconfitta di dieci anni fa sul referendum, sulla legge 40, non sconfitta perché il referendum è stato perso ma perché ha vinto quell'area cattolica che ha invitato all'astenzione. In quel senso sconfitta, però il referendum non è stato perso perché non si è raggiunto il quorum. Sono partita da quello e ho percorso per tratti la storia dell'Associazione Luca Coscioni, quindi dai giorni del referendum alla nascita della Rosa del Pugno, agli obiettivi perseguiti in linea con quello che il partito radicale ha lanciato come prossimi obiettivi quando ha fatto il congresso, incardinare tutte le giurisdizioni per affermare i diritti. E contemporaneamente non lasciando da parte la politica, intervenendo presso il Parlamento tramite i nostri parlamentari iscritti quando c'erano e quando non ci sono stati più, tramite i parlamentari che si iscrivono all'Associazione per portare in Parlamento quelle che sono le nostre, non le nostre richieste, le richieste dei cittadini. E questo l'ho spiegato nel mio intervento. Ogni malato che si rivolge a noi, non chiede pietismo, non chiede elargizioni, con noi diventa padrone della propria vita per dare alla propria vita quel senso di vita che valuta soltanto affermando in prima persona il suo diritto ad avere diritti. Ed è questo che l'Associazione ha fatto nel tempo. Non siamo nemmeno un'associazione di esistenza giudiziaria, però nel momento in cui nel nostro Paese vediamo una politica ferma, totalmente ferma, e si percorrono tutte le strade possibili. Quante proposte di legge, quante interrogazioni sono state presentate su nostra istanza? Oggi è intervenuta Piero Catelli e ricordava di segni di legge per la riforma della legge 40, a prima firma di Michela Marzano, nostra iscritta, con cui abbiamo fatto riproporre in Parlamento quelle norme in aggiornamento del codice civile e riforma della legge 40, norme aggiornate che erano state già riproposte quando avevamo i nove parlamentari in Parlamento. Allora, questo lavoro continuo, certosino, che noi portiamo avanti è un lavoro per le libertà civili. E se non è fare politica questa, non so che cosa significhi fare politica. Ognuno fa politica come sa fare politica con un paese che cambia, una cultura che cambia e esigenze diverse anche per far sì che quei diritti ritornino in un'agenda politica. Il nostro congresso che stiamo tenendo in questi tre giorni si titola Libertà Civili e lo ha ribadito Napolitano, e lo ha ribadito Laura Boldrini nel dire che devono essere affermate quelle libertà dei cittadini che appartengono anche alla richiesta di mettere all'ordine del giorno una legge su temi che un cittadino, in base alla carta costituzionale sente di proporre e raccoglie anche le firme. Abbiamo depositato quasi 70.000 firme sulla proposta di legge per la legalizzazione dell'eutanasia e il testamento biologico. È passato un anno. È un problema generale. I cittadini chiedono attenzione su questo tema e il Parlamento lo ignora. La nostra carta costituzionale non può essere vanificata. O c'è o non c'è un diritto. E se non c'è quel diritto, uno Stato democratico si basa su un principio basilare, ampliare la sfera di esercizio dei diritti, non limitarli. Uno Stato paternalista non appartiene alla democrazia che invece i padri costituenti hanno voluto con la carta costituzionale. E oggi la breccia di Portapia, la breccia per i diritti, lo Stato è laico, i temi delle libertà civili che corrispondono a diritti civili e non corrispondono a temi eticamente sensibili, devono ritornare a un'agenda politica che vede Parlamento e Governo invece far finta che non esistono questi temi. Far finta che non esistono significa non parlarne, significa un inganno per tutti i cittadini italiani, perché invece i temi che riguardano la vita delle persone esistono e ti accompagnano dalla nascita fino alla morte. E bisogna parlarne, bisogna fare in modo che ci sia libertà di esercizio. Non è detto che se avremo una legge sull'eutanasia tutti devono chiedere l'eutanasia. Non è detto che se avremo ottime norme sulla fecondazione assistita tutti dovranno fare fecondazione assistita. Ci sarà la coppia sterile che non vorrà fare fecondazione assistita, è una sua scelta. E nella mia relazione introduttiva certamente ho affrontato anche le questioni interne, perché le questioni vanno affrontate e vanno affrontate nelle sedi opportune, che sono i consigli generali, che sono le riunioni e le direzioni, che sono il senato del partito, che sono il congresso con tutti i soci. Per questo motivo con Marco Cappato abbiamo voluto informare sia sulla situazione accesso agli atti da parte di Maurizio Turco, tesoriere del partito radicale e all'epoca dei fatti su cui chiede accesso agli atti era tesoriere dell'associazione Coscioni. Abbiamo informato il senato del partito, abbiamo informato il consiglio generale e tutti i soci pubblicando tutto sul sito. Quei documenti sono stati già forniti al tesoriere Maurizio Turco. Mancava un'unica lettera che poi risulta superata da atti successivi. Lui aveva inteso fare un accesso agli atti e ha continuato e nel leggere tutte le comunicazioni di accesso agli atti abbiamo appreso le motivazioni nel tempo, cioè man mano che venivano formulati abbiamo appreso qual era l'intento. L'associazione Luca Coscioni è un'associazione di promozione sociale che fa prima di tutto promozione civile e fa politica. Noi ogni due anni siamo sottoposti a controllo, ogni anno presentiamo delle relazioni annuali su tutte le attività. Vengono rendi contate le somme che percepiamo quest'anno grazie a 5.000 scelte libere di cittadini. Perfetto Filomena, io vorrei chiederti qualcosa adesso un pochino riguardo al tuo essere radicale perché l'associazione Luca Coscioni è parte di una galassia, insomma tutta una cosa un po' complessa comunque parte del partito radicale transnazionale, transpartito. Allora c'è questa un po' stranezza che oltre a essere, adesso qui si chiamano soci, non compagni, non iscritti, insomma soci si è anche radicale in qualche modo. Quindi questa sorta di attacco, se così possiamo chiamarlo, insomma queste grosse e forti perplessità che vengono da Maurizio Turco che è in qualche modo teso ieri, cioè l'unica carica, un pochino cosa De Falco oggi l'ha sottolineato nell'intervento, cioè l'unica carica rimasta di questo partito che dovrebbe essere un pochino il sole di tutta questa galassia, vengono un po' da lui, però in qualche modo rappresenta anche un po' tutti i radicali perché è l'unica carica che è rimasta elettiva. Cioè non pensi che ci sia anche un po' una confusione un po' generale, un po' tra tutte queste cariche e soprattutto in adempienze statutarie? L'associazione Luca Coscioni è soggetto costituente del partito radicale, è chiaro scritto nel nostro statuto, adempiamo agli obblighi di soggetto costituente del partito radicale e il partito radicale ha in vigore il senato del partito, che adempie anche agli organi inadempienti. Marco Vannella quante volte ha rappresentato le difficoltà in questo momento del partito radicale? ha preso posizioni ben chiare anche sull'operato, nello specifico di Maurizio Turco, che nelle sue lettere rimentica il dovere di dover tutelare l'onore del partito, l'onore dell'associazione Coscioni e l'onore suo di scritto. Anche noi dobbiamo tutelare l'onore del partito, dell'associazione Luca Coscioni e di tutti i dirigenti. Le questioni si affrontano insieme, se ne discute e noi stiamo cercando questo. C'è il congresso dell'associazione Coscioni dove ci auguriamo che siano affrontate tutte le questioni e ci auguriamo che anche in sede al partito radicale siano affrontate tutte le questioni. Oggi una parte è stata affrontata anche con Maria Antonietta Farina Coscioni che il giorno prima dell'inizio del congresso ha chiesto la pubblicazione di questa lettera aperta ai soci dove ha fatto anche delle osservazioni. non ho capito molti passaggi di questa lettera, infatti ho chiesto spiegazioni e anche questa lettera è stata inviata a tutti i soci dell'associazione con una comunicazione mia di Marco perché non tutti forse comprano Europa, sanno che quel giorno c'è quella lettera e quindi è pubblicata sul sito e è stata inviata. Io nella mia relazione ho risposto alla domanda di Maria Antonietta come mai il sito lucacoscioni.it non è stato considerato come un valore aggiunto. Mi dispiace che lei pensi che non possa essere un valore aggiunto ma ho dovuto spiegare che nel 2011 è stata chiesta la gestione esclusiva di Maria Antonietta. Luca è morto nel 2006 è stato fatto un passaggio di proprietà a Maria Antonietta di questo sito lucacoscioni.it Luca aveva pensato il sito come sito dell'associazione per tutti, non era un suo bene personale per lo meno per quello che noi abbiamo inteso da Luca. Maria Antonietta nel 2011 ne ha chiesto la restituzione e quindi è diventato di sua proprietà esclusiva. Tutto questo certo ci ha comportato un nuovo sito delle spese trasferimento dei contenuti, infatti abbiamo avuto anche un periodo transitorio per il trasferimento dei contenuti nel sito associazionelucacoscioni.it ha comportato anche il cambiamento di un dominio, l'aggiornamento dello statuto sul dominio, l'aggiornamento di tutti i materiali informativi, pubblicitari, delle campagne che noi portiamo avanti nel tempo che riportano un determinato dominio. Poi sapevamo che stava lavorando un sito dedicato a Luca. Ci ha chiesto di poter invitare tramite l'indirizzario dell'associazione alla presentazione del sito i soci dell'associazione e noi abbiamo fatto inviare la comunicazione. Poi abbiamo letto che era stato presentato questo sito più un altro progetto che si chiama Istituto Luca Coscioni. Però nessuno ci ha mai detto io con questo sito vorrei fare questo, sto facendo questo con l'Istituto Luca Coscioni. Per valorizzare bisogna condividere, bisogna coinvolgere. Noi quello che ci è stato chiesto l'abbiamo fatto. Ci è stato chiesto di inviare l'invito per la presentazione del sito e l'abbiamo fatto. In altri modi se non vengono richiesti non è che posso leggere nella mente delle persone e non so di che cosa si tratta quando si parla di due progetti Luca Coscioni.it e Istituto Luca Coscioni. Io so che c'è l'associazione Luca Coscioni che porta avanti un'iniziativa politica costante su tutti i temi che riguardano le libertà individuali e le libertà civili e l'ultimo anno, con grande soddisfazione, io lo devo dire, non sono una persona che normalmente si dà meriti ma dò meriti al lavoro intero dell'associazione di chi con noi ogni giorno si fa protagonista perché si raggiungano quei meriti alle coppie che si sono rivolte a noi con cui siamo riusciti a far cancellare gran parte dei divieti della legge 40, a tutto ciò che stiamo facendo sulle barriere architettoniche dove c'è una buona legge che invita tutti ad adottare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche però non viene applicata e allora in tutti i modi possibili raggiungiamo l'obiettivo nomenclatore tariffario, LEA, cioè ci sono le esigenze delle persone e noi stiamo facendo politica raggiungendo degli obiettivi ora il prossimo anno ci aspettano nuovi obiettivi da raggiungere che già sono incardinati, ad esempio la Corte Costituzionale, gli embrioni alla ricerca abbiamo inteso anche riproporre anche l'attuale dirigenza e domani vedremo come avremo quindi questo vuol dire che ti ricandiderai come segretaria? Sì, io sono abituata a portare avanti le cose in cui credo certo non vorrei essere un segretario a vita perché vorrei fare anche tante altre cose che comunque non mi allontaneranno dall'associazione e dal lavoro che io faccio con l'associazione perché ci credo perché da quando è nata Amica Cigonia nel 98 oggi è un'associazione che aspetta la cancellazione degli ultimi divieti per diventare soltanto comunità web abbiamo ancora tanto da fare io rimetto agli associati naturalmente la votazione è bello lavorare in questo modo è brutto quando ci sono purtroppo questioni interne che non si affrontano subito quindi è meglio affrontare tutto, chiarire tutto e pensare agli obiettivi futuri anche perché ci dovremmo impegnare tutti per raggiungerli questi obiettivi dobbiamo mobilitarci immediatamente c'è tanto lavoro da fare insomma Bocca a lupo a Filomena Carlo Grazie Grazie